Albano e Romina Power infiammano la pista di Ballando con le stelle Albano Carrisi e Romina Power sono stati ballerini per una notte ospiti di Cancelletto Ballando con le stelle. Intorno alle ore 22.20 hanno fatto la loro prima apparizione sulla pista al Foro Italico ed hanno subito dato spettacolo con i loro siparietti pieni di tenerezza. In studio ricordiamo che era anche presente uno dei tanti fan club dei due artisti. Romina come al solito nella sua eleganza brillato con il suo sorriso in un bellissimo caftano blu elettrico e sandali infradito. Albano invece sempre impeccabile. Con un vestito nero e limmancabile cappello che da sempre lo contraddistingue. Alle domande della padrona di casa Millie Carlucci non si sono assolutamente sottratti ed hanno risposto divertendo e accendendo ancora una volta la speranza nei tanti fan che da sempre sperano in un ritorno di fiamma. Millie con un po' di malizia ha chiesto alla Power se durante il matrimonio Carrisi l'avesse mai portata a ballare e con tutta sincerità la diva italo-americana ha detto che nonostante lei ami il ballo. Il suo allora marito non la portò mai in pista. Albano invece con simpatia ha detto di averla portata a ballare tre volte, sì ma durante le riprese del film Nel Sole. Il simpatico siparietto è poi continuato quando la Carlucci ha chiesto ad entrambe gli ex coniugi di dire un pregio ed un difetto. Albano con la sua galanteria ha risposto, Romina non ha difetti, quando esci con lei si può parlare solo di pregi. Romina invece ha affermato con il sorriso sulle labbra, i pregi di Albano sono la voce, non si può negare. Albano e Romina, fanno sognare i fan. Ci sono coppie che hanno segnato una generazione, loro sono la coppia che hanno fatto sognare intere generazioni. Si sono amati, perduti, ritrovati e riabbracciati. Il loro amore non finirà mai e stasera lo porteranno sulla pista di Ballando con le stelle. Con questa introduzione alle 23 si sono esibiti in Albano e Romina Power. Esibizione divina prima con i due ballerino professioniste e poi insieme tanto per far sognare il pubblico da casa e in studio, suddiviso in ogni parte del mondo. Al termine dell'esibizione è continuato il siparietto con le domande stuzzicanti di Selvaggia Lucarelli, io e Romina non ci stanchiamo mai di essere di essere una coppia. Da segnalare anche le parole di Romina, sono stata di moda per 15 anni e poi mi hanno ripescata. Per la gioia dei tanti fan al termine della performance di danza, Carrisi come ciliegina sulla torta si è esibito cantando Nostalgia a Canaglia. Non ci resta che ringraziare Millie Carlucci per questo splendido regalo. Non ci resta che ringraziare Nostalgia a Canaglia, non ci resta che ringraziare Nostalgia a Canaglia.